Salve a tutti gli amici di Il Mondo d'Ori, sono Alan Friedman e sono molto contento di annunciarvi che è uscito il mio nuovo libro, Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi. È un libro facile facile che spiega tutte le questioni della nostra vita, pensione, banche, tasse, lavoro, crescita e poi questi politici. C'è una paggella dei politici che spiega anche chi, Renzi, Berlusconi, Di Maio, Salvini, chi veramente ha una proposta per la nostra economia e per creare posti di lavoro più credibili. Nessuno, qualcuno deve leggere il libro. Comunque, questo è un libro facile facile. Da un lato è un libro che ho scritto perché volevo finalmente dare a voi la possibilità di sapere le cose in modo semplice, senza studiare, perché quando si volta il 4 di marzo bisogna capire bene cosa propongono questi politici sull'economia. Ma poi è anche un libro che dovrebbe essere la prima guida facile facile all'economia italiana per ognuno di noi. Quindi spero che vi fa piacere Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi. La Dittoria e Newton Compton